E tu ti sei vaccinato? Vaccino sì, vaccino no? C'è un'epidemia in corso di meningite a Milano e Lombardia? Assolutamente no, i dati sono quelli degli ultimi dieci anni. Però è bene vaccinarsi. Perché vaccinarsi? Vaccinarsi perché non solo si difende la propria salute, quella dei propri cari, ma anche quelli della comunità. E allora lasciamo stare le bufale che si dicono in giro che vaccinarsi è pericoloso e pensiamo alla nostra salute. Vaccinarsi un vetro. Se prendete tutte le grandi ricerche scientifiche del mondo, ci dicono che vaccinarsi salva. Il mio consiglio è quello di prenotare una vaccinazione presso un ospedale. Come fare? Sul sito di Regione Lombardia ci sono tutti gli ospedali che fanno le vaccinazioni, oppure sul sito dell'ATS che è l'Exasl, dove ci sono anche lì tutti i numeri di telefono e le strutture più vicine a casa. Quanto costa vaccinarsi? Fino a qualche mese fa costava qualche centinaio di euro. Oggi, con il cofinanziamento della Regione, va dai 20 ai 80 euro, secondo il tipo di vaccino che si fa. Possiamo fare di più? Certo, dobbiamo fare di più. Oggi ci sono 69.000 persone che si sono prenotate per il vaccino, con liste d'attesa fino al 2019. Questo non è possibile e per questo stiamo chiedendo degli stanziamenti straordinari per permettere le vaccinazioni il sabato e la domenica e tagliare le vergognose liste d'attesa. Vaccinarsi non è obbligatorio, ma salva la vita.